Nehemia Parole di Nehemia, figlio di Cacalià Nel ventesimo anno, nel mese di Casleu, mentre io mi trovavo nella cittadella di Susa, arrivò da Giuda Canani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri. Io li interrogai sui Giudei, i superstiti che erano scampati dalla prigionia, e su Gerusalemme. Essi mi dissero I superstiti che sono scampati dalla prigionia sono laggiù nella provincia in grande miseria e umiliazione. Le mura di Gerusalemme sono piene di brecce, le porte distrutte dal fuoco. Quando udì queste parole, mi posi a sedere e piansi. Feci cordoglio per più giorni e stetti in digiuno, pregando al cospetto del Dio del cielo. Dissi, Ah, Signore Dio del cielo, Dio grande e terribile, che mantieni il patto e la misericordia per coloro che t'amano e osservano i tuoi comandamenti. Sia il tuo orecchio attento e i tuoi occhi aperti. Ascolta la preghiera del tuo servo, che rivolgo ora a te, giorno e notte, per i figli di Israele tuoi servi. Io confesso i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Anch'io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Ci siamo comportati iniquamente verso di te. Non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu ordinasti a Mosè, tuo servitore. Ma ricordati, ti prego, della parola che hai confidato a Mosè, tuo servitore, dicendo, se voi sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli. Se però tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li praticherete, quando anche i vostri esiliati fossero ai confini del cielo, io li radunerò di là e li ricondurrò nel luogo che ho prescelto per farvi abitare il mio nome. Questi sono ora i tuoi servi e il tuo popolo che hai redento con la tua grande potenza e la tua formidabile mano. Ah, Signore, sia il tuo orecchio attento, ti prego, alla supplica del tuo servo e alla supplica dei tuoi servi che ricercano il timore del tuo nome. Oggi stesso, ti prego, concedi un favorevole esito al tuo servo, ottenendogli buona accoglienza presso quest'uomo. io ero allora coppiere del re. Nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artaserse, essendo io incaricato del vino, presi il vino e lo porsi al re. Non ero mai stato triste in sua presenza. Mi disse il re, perché questo volto triste, eppure non sei malato? Ciò non è altro che sofferenza del cuore. Allora fui preso da una grande paura e dissi al re, viva il re in eterno! Come potrebbe non essere addolorato il mio volto quando la città dove stanno i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono state divorate dal fuoco. Il re mi domandò che cosa desideri? Invocai allora il Dio del cielo e risposi al re. Se questo piace al re e se il tuo servo è gradito agli occhi tuoi, fammi andare in Giuda, alla città dei sepolcri dei miei padri, affinché io la riedifichi. Il re mi domandò e la regina stava assisa al suo fianco, quanto tempo durerà il tuo viaggio e quando ritornerai? Parve bene al re di lasciarmi partire e io gli fissai una data. Dissi ancora al re, se piace al re mi vengano date lettere per i governatori dell'oltre fiume affinché mi concedano il passaggio fino a che io arrivi in Giuda e una lettera per Asaf, ispettore del parco reale, affinché mi dia legname per ricostruire le porte della cittadella del tempio, per le mura della città e per la casa in cui dovrò andare. Il re me lo concedette perché la mano benevola del mio Dio era sopra di me. Giunsi presso i governatori dell'oltre fiume e diedi loro le lettere del re. Con me il re aveva inviato anche alcuni capi dell'esercito e un gruppo di cavalieri. Quando però Samballat coronita e Tobia il servo ammonita ne ebbero notizia si irritarono grandemente perché era giunto un uomo che avrebbe ricercato il bene dei figli di Israele. Arrivai dunque a Gerusalemme e vistetti tre giorni. Poi mi levai di notte assieme a pochi uomini senza aver manifestato a nessuno che cosa il mio Dio mi andava suggerendo di fare per Gerusalemme. Non avevo con me alcun giumento tranne quello che io cavalcavo. Uscì di nottetempo per la porta della valle verso la sorgente del dragone e quindi verso la porta dell'etame ispezionando le mura di Gerusalemme diroccate e le porte divorate dal fuoco. Proseguì verso la porta della sorgente e la piscina del re ma non vera posto per cui far passare il giumento su cui stavo. Risalì allora per la valle sempre ispezionando le mura di notte e rientrando per la porta della valle rincasai. i magistrati non avevano saputo dove io fossi andato né che cosa intendessi fare. Fino a quel momento non l'avevo infatti manifestato né ai giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati né ad altri che avessero qualche carica. Allora dissi loro voi vedete la sciagura in cui ci troviamo Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consunte dal fuoco venite ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più oggetto di derisione. Raccontai loro come la mano benevola del mio Dio era stata sopra di me e anche le parole che il re mi aveva dette. Allora essi esclamarono su mettiamoci a costruire presero coraggio nel dar mano a quest'opera egregia. Quando però lo vennero a sapere Sanballat coronita e Tobia il servo ammonita e Gesem l'arabo si fecero beffe di noi e dicevano direggiandoci che cosa andate facendo volete forse ribellarvi al re ma io li rimbeccai e dissi sarà il Dio del cielo a farci avere un esito felice noi suoi servi ci accingiamo a costruire per voi invece non vi sarà parte né diritto né ricordo in Gerusalemme si levò allora Eliasib sommo sacerdote assieme ai suoi fratelli sacerdoti e costruirono la porta delle pecore essi stessi la consacrarono e vi misero i battenti continuarono a costruire fino alla torre di Mea che poi consacrarono e fino alla torre di Cananeel accanto a loro edificarono gli uomini di Gerico vicino a questi costruì Zaccur figlio di Imri i figli di Sena costruirono la porta dei pesci ne fecero l'intelaiatura vi misero i battenti le serrature e le sbarre accanto a loro lavorò alla restaurazione Meremot figlio di Uria figlio di Akkots vicino a costui Mesullam figlio di Berechia figlio di Mesezabael vicino a questi riparò Zadok figlio di Baana accanto ad essi lavorarono alle riparazioni le genti di Tecoa ma i loro notabili non piegarono il collo al servizio del loro signore Iojada figlio di Paseac e Mesullam figlio di Besodia ripararono la porta vecchia essi ne fecero l'intelaiatura vi misero i battenti le serrature e le sbarre accanto a loro restaurarono Melatia il Gabaonita Iadon il Meronotita e gli uomini di Gabaon e di Mizpah per conto del governatore dell'oltrefiume vicino a Costoro lavorò per le riparazioni Uzziel figlio di Caraia uno degli orefici e accanto a questi riparò Anania uno dei profumieri essi restaurarono Gerusalemme fino al muro largo al loro fianco restaurò Refaiia figlio di Kur capo di metà del distretto di Gerusalemme al suo fianco restaurò Iedaiah figlio di Karumaf di rimpetto alla propria casa vicino a lui restaurò Cattus figlio di Kasabnia Malachia figlio di Karim e Kasub figlio di Pakat Moab restaurarono il tratto seguente e la torre dei forni al loro fianco Sallum figlio di Allokes capo di metà del distretto di Gerusalemme lavorò alle riparazioni con le sue figlie ripararono la porta della valle Canum e gli abitanti di Zanoac essi la costruirono rimisero i battenti le serrature e le sbarre ricostruirono inoltre mille cubiti di muro sino alla porta dell'etame Malachia figlio di Rechab capo del distretto di Bet Kerem riparò la porta dell'etame la ricostruì rimise i battenti le serrature e le sbarre la porta della sorgente la restaurò Sallun figlio di Kol Koze capo del distretto di Mizpah egli la costruì la ricoperse pipose i battenti le serrature e le sbarre ricostruì inoltre il muro della cisterna di Siloe presso il giardino del re fino ai gradini che scendono dalla città di Davide topo di lui Neemia figlio di Azbuk capo di metà del distretto di Bet Zur lavorò alle riparazioni di rimpetto ai sepolcri di Davide fino alla cisterna artificiale e fino alla casa dei Prodi dopo di lui restaurarono i Leviti Recum figlio di Bani e vicino a lui Casabia capo di metà del distretto di Keilah per il suo distretto dopo di essi lavorarono alle riparazioni i loro fratelli Binui figlio di Kenadad capo dell'altra metà del distretto di Keilah accanto accanto a lui Ezer figlio di Giosuè capo di Mizpah riparò un altro settore di fronte alla salita dell'arsenale verso l'angolo dopo di lui Baruch figlio di Zaccai restaurò un altro settore dall'angolo fino all'ingresso della casa del sommo sacerdote Eliasip Meremoth figlio di Uria figlio di Accor restaurò dopo di lui un altro settore dall'ingresso della casa di Eliasip sino alla fine di essa dopo di lui lavorarono alle riparazioni i sacerdoti abitanti delle Adiacenze dopo di loro restaurarono Beniamino e Cassub di rimpetto alle loro case dopo di essi Azaria figlio di Maaseia figlio di Anania lavorò alle riparazioni presso la sua casa Binui figlio di Kenadad riparò dopo di lui un altro settore dalla casa di Azaria fino alla curva cioè all'angolo Palal figlio di Uzai lavorò di rimpetto all'angolo e alla torre che sporge dalla casa superiore del re che dà sul cortile della prigione dopo di lui lavorò Pedai figlio di Pareos gli oblati che abitavano Lofel restaurarono fin di rimpetto alla porta delle acque verso oriente e di fronte alla torre sporgente dopo di essi quelli di Tecoa restaurarono un altro settore di fronte alla grande torre sporgente e fino al muro dell'Ofel al di sopra della porta dei cavalli i sacerdoti lavorarono alle riparazioni ciascuno di fronte alla propria casa Zadok figlio di Immer restaurò dopo di loro di fronte alla propria casa e dopo di lui restaurò Semaia figlio di Secania custode della porta orientale dopo di questi Anania figlio di Selemia e Canun sesto figlio di Zalaf ripararono un altro settore dopo di loro Mesullam figlio di Berechia restaurò di fronte alla sua camera Malchia uno degli orefici restaurò dopo di lui sino alla casa degli oblati e dei mercanti di rimpetto alla porta della rassegna e fino alla sala alta dell'angolo tra la sala alta dell'angolo e la porta delle pecore lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti quando Samballat venne a sapere che noi edificavamo le mura si indignò e si adirò terribilmente prese a schernire i giudei gridando davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria che cosa stanno facendo questi miserabili giudei saranno forse lasciati agire offriranno sacrifici e finiranno in un giorno solo faranno forse rivivere dai mucchi di polvere le pietre già bruciate dal fuoco Tobia l'ammonita che gli stava a fianco esclamò costruiscano pure ma se uno sciacallo si lancerà contro rovescerà il loro muro di pietra ascolta o nostro dio perché siamo oggetto di scherno fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali alla derisione in una terra di schiavitù non nascondere la loro iniquità e il loro peccato non sia cancellato dal tuo cospetto giacché essi hanno pronunciato insulti in faccia ai costruttori orbene noi ricostruimmo le mura completandole totalmente fino a mezza altezza la volontà del popolo era di agire ma quando Samballat Tobia gli Arabi gli Ammoniti e gli Asdoditi vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme avanzava e che le brecce cominciavano a chiudersi andarono in grande collera e tutti insieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi tumulti ma noi invocammo il nostro Dio e ponemmo sentinelle contro di essi giorno e notte a difesa dai loro attacchi Giuda però cominciò a dire la forza del manovale viene meno ed enormi sono le macerie non saremo in grado di rialzare le mura i nostri nemici proclamavano non s'accorgeranno di nulla né nulla vedranno fino a che noi piomberemo in mezzo a loro e li massacreremo così metteremo fine all'impresa per dieci volte ci vennero a dire i giudei che abitavano in mezzo ad essi salgono contro di noi da tutti i luoghi dove abitano allora nelle parti più basse del terreno dietro le mura io stabilì degli spiazzi e vi disposi il popolo per famiglie con le loro spade le lance e gli archi e come ebbi ispezionato bene mi alzai e dissi ai notabili ai magistrati e al resto del popolo non temeteli ricordatevi del signore grande e terribile combattete per i vostri fratelli i vostri figli e le vostre figlie per le vostre mogli e le vostre case quando i nostri nemici si accorsero che noi eravamo stati informati Dio annientò il loro piano e noi tornammo tutti alle mura ciascuno al suo compito da quel giorno metà dei miei uomini si occupava dei lavori e l'altra metà muniti di lance scudi archi e corazze assieme ai capi stavano dietro a tutta la gente di Giuda coloro che costruivano le mura coloro che portavano che caricavano con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra impugnavano l'arma i costruttori mentre lavoravano portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi accanto a me stava il suonatore di tromba io dissi ai notabili ai magistrati e al resto del popolo i lavori sono importanti ed estesi mentre noi siamo dispersi lungo le mura lontani uno dall'altro orbene da qualsiasi parte udrete il suono della tromba radunatevi attorno a noi il nostro dio combatterà per noi così portavamo avanti il lavoro mentre una metà dei miei impugnava le lance dallo spuntare dell'aurora fino all'apparire delle stelle in quella stessa occasione dissi pure al popolo ciascuno passerà la notte dentro Gerusalemme assieme ai suoi uomini così saranno essi di guardia per noi durante la notte e di giorno al lavoro d'altra parte né io né i miei fratelli né i miei uomini né la gente di guardia che mi seguiva ci toglievamo i nostri vestiti ciascuno teneva nella destra la sua spada si levò un gran lamento da parte del popolo e delle loro donne contro i giudei loro fratelli c'era chi diceva noi i nostri figli e figlie siamo numerosi ci prenderemo dunque del grano per mangiare e vivere c'era chi diceva noi ipotechiamo i nostri campi le vigne e le case per acquistare grano durante la carestia altri ancora abbiamo preso denaro in prestito per i tributi del re eppure la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli ecco noi dobbiamo vendere come schiavi i figli e le figlie alcune delle nostre figlie sono state già ridotte in schiavitù e non abbiamo più nessuna possibilità perché i nostri campi e le nostre vigne appartengono ad altri quando udì il loro lamento e queste parole mi indignai fortemente dopo aver deliberato dentro di me contestai i notabili e i magistrati dicendo loro voi esercitate l'usura ciascuno verso il suo fratello convocai allora una grande assemblea contro di essi e dissi loro secondo le nostre possibilità noi abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che erano stati venduti alle genti voi invece vendete i vostri fratelli perché ci siano poi rivenduti e si tacquero non trovando parole io esclamai non è bene ciò che andate facendo non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro dio per non essere di scherno alle genti nostre nemiche anch'io i miei fratelli e i miei uomini abbiamo prestato loro denaro e grano ma condoniamo loro vi prego questo debito restituite ad essi proprio oggi i loro campi le vigne gli uliveti le case e il debito d'argento di grano di mosto e di olio che avete richiesto loro essi risposero restituiremo e non esigeremo più nulla da loro faremo come tu dici chiamai allora i sacerdoti e davanti a loro li feci giurare che avrebbero agito secondo questa promessa poi scossi la piega del mio mantello ed esclamai così scuota dio dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non manterrà questa promessa così egli venga scosso e svuotato tutta l'assemblea gridò amen glorificando il signore il popolo agì secondo quella promessa inoltre dal giorno in cui il re stabilì che io fossi loro governatore in terra di giuda cioè dall'anno ventesimo del re artaserse fino al trentaduesimo per dodici anni io e i miei fratelli non mangiammo mai della provvigione del governatore invece i governatori antichi che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo prendendo giornalmente da esso 40 sicli d'argento in pane e vino perfino i loro servi avevano angariato il popolo ma io non ho agito così perché ho avuto timore di dio ho anche lavorato fortemente nella ricostruzione di queste mura benché non possedessi alcun terreno eppure i miei servitori erano tutti assieme là al lavoro avevo a mensa 150 uomini fra giudei e magistrati oltre a quelli che venivano a noi dalle genti circonvicine ciò che si preparava giorno per giorno era preparato sul mio conto un bove sei montoni scelti e uccellame e ogni dieci giorni otri di vino in abbondanza ma non ho mai chiesto la provvigione del governatore perché una grave servitù pesava già su questo popolo ricordati di me in bene o mio dio di quanto ho fatto per questo popolo